Durante gli scorsi giorni mi sono imbattuto da un personaggio abbastanza particolare Che anche se non ha milioni di follower si meriterebbe un vero e proprio servizio di inchiesta Dato che come vedete dalle foto frequenta assolutamente personaggi grossissimi nel calibro di Laza Quel pequeño e svere basta Con tanto di foto prova eh, quindi non è che me lo sto inventando E voi dite, ma saranno amici, cosa c'è di strano? La cosa un po' strana è che questo personaggio, che si chiama Cancun, fa il cantante E ha fatto anche uscire un pezzo di infito inconsciva per farvi capire i livelli Mostra degli oggetti sui social che sono abbastanza singolari Infatti possiamo vedere dalle sue foto, per esempio dalle stories Orologi da 10 fino addirittura a 50.000 euro orologio E sicuramente con i soldi della musica non arrivi a comparti un orologio del genere Inoltre un'altra roba che aveva lui stesso sulle stories È una foto con suo papà dove appunto parla del fatto che si trova in carcere in questo momento Ora non voglio andare a dire che si tratti di una persona facente parte di qualche associazione a delinquere E questa persona abbia dei contatti con dei personaggi molto noti dalla scena italiana Però caspita, sicuramente un qualcosa non torna in tutto questo E vorrei scavare più approfonditamente Ma non aggiungo altro perché voglio sapere la vostra opinione riguardo a questa vicenda Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio Noi ci vediamo al prossimo video